Sarà il pala Vesuvio di Ponticelli ad accogliere sabato 25 domenica 26 marzo la Final Four di Coppa Italia Maschile di Calcio a 5, un evento sportivo di rilievo nazionale che sarà ospitato per la prima volta a Napoli. In gara pronte a sfidare la vincitrice Italia Service Pesaro ci sono tre squadre campane, il Napoli Futsal, la FED di Eboli ed il Real San Giuseppe, protagoniste di questa 38esima edizione di Coppa Italia di Futsal che vedrà la finale trasmessa in diretta su Sky Sport. Una bellissima iniziativa, ci auguriamo evidentemente che possa vincere il migliore ed è un'altra delle iniziative nelle quali il Comune collabora con le federazioni rendendo praticamente accessibile a tutti l'impianto, il pala Vesuvio, sempre allo scopo di coinvolgere e di far conoscere tutti quanti gli sport esistenti che attualmente probabilmente sono poco conosciuti e poco seguiti. Lo scopo è sempre lo stesso, oltre che la realizzazione della candidatura a Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, anche e soprattutto quello di coinvolgere i nostri ragazzi in qualunque sport, purché sia sport, visti i benefici che conosciamo che lo sport può dare. Questa mattina nella sala giunta del Comune si è proceduto al sorteggio degli accoppiamenti alla presenza dell'assessore allo sport Emanuela Ferrante. Ricapitoliamo dunque, Fendi Eboli, Real San Giuseppe, Italservice Pesaro contro Napoli Fulsal.